L'evento è molto utile. È il terzo anno che siamo qui e siamo molto contenti di essere stati invitati, perché crediamo che a Lugano ci sia una quantità di investitori che tante volte è bene venire a visitare qui. Crediamo che sia utile e l'anno scorso ha avuto un effetto molto interessante e speriamo anche quest'anno. Visto l'attuale consenso economico, il sentimento di mercato lo percepisco negativo, ancora negativo e un po' troppo negativo. Personalmente non concordo affatto su questa negatività. Io credo che ci siano molte possibilità che abbiamo toccato il fondo e stiamo già recuperando. Il recupero sarà lento, ma secondo me oggi è sbagliato il sentimento. L'internizzazione è il miglior strumento valido per la crisi, insieme alla tecnologia, insieme ai brand, insieme a queste cose, ma non c'è nessun dubbio che sia una delle tre o quattro grandi chiavi per lo sviluppo dell'azienda. Noi siamo cresciuti ancora nel 2012, così come nel 2011, vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a investire. Abbiamo appena fatto vedere la quantità di investimenti che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare. Crediamo di poterci riuscire quest'anno, di poter continuare l'anno prossimo, di dare dei buoni risultati nel 2012, possibilmente ben superiori a quelli del 2011, e per cui dare soddisfazione ai nostri azionisti, ai nostri clienti, ai nostri partner.